Musica Ancora alcuni mesi di lavori e la copertura del parcheggio interrato in piazza Garibaldi dovrebbe essere completata. Ad annunciarlo nel corso della commissione mobilità alla presenza dell'assessore Mario Calabrese e presieduta da Gaetano Simeone e l'ingegnere Walter Capone di Grandi Stazioni, invitato a partecipare al tavolo per informare sullo stato del cantiere in piazza Garibaldi. Abbiamo preso un impegno con i cittadini e soprattutto con grandi stazioni e con l'assessorato alla mobilità per cercare di capire da grandi stazioni che cosa hanno in mente di fare. Noi non possiamo accettare la situazione di piazza Garibaldi così com'è perché dobbiamo dare risposta alla cittadinanza. Un progetto, la realizzazione del parcheggio sotterraneo nell'area nord della piazza, avviato da grandi stazioni nel 2012 che ha subito arresti e rallentamenti a causa di problemi con l'impresa esecutrice e ripreso circa un anno fa per concludersi entro maggio 2017. Nei prossimi sei mesi dovrebbero terminare i lavori di completamento della copertura del parcheggio per poi passare alla finitura dei piani interrati. Alla riunione di commissione hanno preso parte anche dirigenti e tecnici del comune che seguono gli interventi di riqualificazione dell'area superficiale della piazza, un progetto complicato che vedrà a dicembre il completamento di gran parte dei lavori. L'incontro è stata anche l'occasione per fare il punto sugli interventi in via marina alla presenza del direttore Sandro Pietrafesa. Già da mercoledì scorso ci ha consentito di migliorare moltissimo il traffico in uscita da Napoli e che entro il 15 potrà garantire un ingresso a Napoli in modo molto più agevole. Per quanto concerne poi la durata dei lavori noi ci auguriamo così come già abbiamo dichiarato recentemente che già da fine dicembre potremo avere la totalità dei lavori eseguiti. Stanno andando avanti secondo il programma con l'apertura delle due corsie per ente l'uscita e anche con i dispositivi che abbiamo concordato con l'autorità per ente portuale, cioè quello di non chiudere per ente l'uscita dei mezzi per ente pesanti su Sant'Erasmo. In realtà in questo momento quelle crisi che ogni tanto si verificavano mentre su via marina, crisi in tendo di traffico, si sono ridotte notevolmente.